Un luogo nella stanza. Che cos'è il gabinetto medianico? Commento. Per gabinetto medianico si intende un luogo nella stanza delle riunioni, dove lo strumento è in trance. Il luogo è in genere chiuso da una tenda che delimita lo spazio dalla terra al soffitto. I fenomeni fisici avvengono nel gabinetto. Il primo a idearlo sembra sia stato uno dei più antichi strumenti americani, Jonathan Kunz, nel 1853, che costruì una stanzetta in legno. Allen Putnam suppose che l'arca dell'alleanza degli antichi ebrei fosse sostanzialmente un gabinetto medianico. Chi scrive segue attualmente il cerchio esseno, che è in attività da 43 anni. Le guide dell'esseno suggerirono, anni fa, di predisporre un gabinetto medianico in cui avrebbero prodotto imponenti fenomeni fisici. Ma nel gabinetto non è avvenuto finora nessuno dei fenomeni annunciati, mentre al di fuori di esso ne sono avvenuti moltissimi e ne avvengono molti.